coppo di gamberoni e zucchine in tempura amici di bella sicilia guardate quale specialità vi mostriamo in queste immagini buonasera stiamo preggendo dei gamberi e delle zucchine in tempura parlateci di questa specialità qui a patti street food specialità buonissima fatta dalla risacca di patti gamberi e zucchine in tempura venite a trovarci e fino a domenica questo bagno di sapori e soprattutto a due passi dal mare guardate amici di bella sicilia dove ci troviamo fatti marina sono dei giorni davvero da non perdere venite a trovarci vi aspettiamo salutiamo tutti gli amici di onda tv e bella sicilia cosa diceva che il Benito a trovarci, al ristorante Arisacca, Patti Street Food, ci troviamo a Patti Marina, fino a domenica allora, lanciamo questo invito? Sì. Va bene, arrivederci, arrivederci.